Sorteggio fra i richiedenti ex equo nella graduatoria dell'assegnazione degli alloggi in questa mattina alla Biblioteca Clavio di Piazzale Besta a Tattaranto. Si tratta di una graduatoria definitiva e riguarda sistemazioni di edilizia residenziale pubblica del territorio comunale. La procedura è prevista dalla legge regionale 54 dell'84 che rientra tra le norme per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Presenti, i concorrenti che avevano conseguito lo stesso punteggio, su di essi saranno effettuati ulteriori accertamenti. Ci sono innanzitutto una serie di ex equo che partono dalla fascia più alta alla fascia più bassa. Quindi noi per poter creare la graduatoria per i prossimi giorni abbiamo bisogno necessariamente di fare un sorteggio fra chi ha lo stesso punteggio. Dopodiché si formerà questa graduatoria e nei prossimi mesi potremo dare queste trentine di case che abbiamo a disposizione attraverso l'OIACP. E' chiaro che sarà fatto, questo non significa stamattina avere la casa, ci sarà la graduatoria perché faremo i raggi X a tutti quelli che saranno nei primi posti in giù perché la casa davrà chi veramente ha bisogno e chi ne avrà diritto.